Guardate che spazzasso a tutti noi, che è la maratonina di Città di Arezzo, questo è il punto della corsa, che è il punto della corsa, che è il punto della corsa, speriamo che sia per tutti il cuore di un nuovo giudato, e mi raccomando, che è il punto di vista. Non ha tradito le aspettative la ventiquattresima edizione della maratonina Città di Arezzo, che ha attraversato il cuore della città, e soprattutto non ha tradito il pronostico la protagonista annunciata, Helen Bekele Tola, etiope favorita assoluta in campo femminile, ha dominato la propria gara, stabilendo il nuovo record della competizione, con un tempo di 1 ora 7 minuti e 54 secondi. Dominio keniano anche in campo maschile, con 5 atleti ai primi posti, il primo a tagliare il nastro, Isaac Kim Kenbo Ito, in 1 ora 1 minuto e 47 secondi. È andata completamente molto molto bene, perché abbiamo visto tantissimi partecipanti, è stato uno spettacolo fantastico che non si rivedeva dal prima del Covid, quindi questo ci fa ben sperare per le eventuali edizioni future. 1.500 ai nastri di partenza, tra competitiva e non, gli agonisti circa 950. L'appuntamento adesso è per il prossimo anno, quando la maratonina festeggerà le nozze d'argento.